Il mio nonno aveva una sola speranza, che l'Italia non entrasse in guerra e che il periodo di non belligeranza potesse continuare da lungo. E questo in qualche modo gli era stato anche garantito a Roma, cosa che poi non successe. Lui disse qualcosa a questo proposito, pochi giorni prima della dichiarazione di guerra, il mio nonno era a Roma. E il Duce gli chiese, come stanno gli operai della Fiat, cosa pensano? Il mio nonno rispose con una formula di dito, che era sono grati al Duce perché tiene il paese fuori dalla guerra. Se stia tranquillo Agnelli così e così continuerà, pochi giorni dopo. E questo lascerebbe pensare cosa che molti sostengono, che l'entrata in guerra dell'Italia fosse un'improvvisa decisione di Mussolini dopo le grandi vittorie tedesche. Questo non lo so, non lo so. Certamente le vittorie tedesche avrebbero incoraggiato molta gente a fare quel pazzo, ma anche io credo che quel pazzo è ineluttabile per voi. Ma in generale qual era l'atteggiamento in profondo di suo nonno verso il fascismo? Quando tu hai creato, stai creando, sei responsabile di una lusso in lusso in un paese, è ovvio che dovessi ridonare il rapporto con chi lo vorrebbe. Al Duce dell'Italia fatista, molto noi dobbiamo, al capo del governo venuto stravolo nel decennale ad onorare il vostro lavoro, lavoro torinese, lavoro italiano. Voi esprimete con l'imponenza stessa di questa vostra donata, con la schiettezza dell'animo vostro, la riconoscenza e la fedeltà di Torino, che anche quest'anno saprà meritare l'alto riconoscimento della sua opera assistenziale. Qui all'indotto parte il cuore di Torino operario. Dal nostro cuore ci leva con l'entusiasmo, le viva la rinnovata Italia e dal suo agosto. Viva Venito Piemontese! Il passato piemontese, la tradizione di disciplina militare, la tradizione sabauda. Se uno pensi il ruolo che ha giocato il Piemonte nella storia d'Italia, il ruolo di unificazione, che è diventata capitale d'Italia per pochissimo tempo, poi l'ha passata a Firenze e poi a Roma, mentre si è trovata improvvisamente spogliata di ruolo di capitale politica, e ha cercato delle nuove soluzioni e delle nuove strade. L'industria è stata la strada che ha seguito. Cosa aveva per fare l'industria? Aveva una borghesia solida, aveva l'abitudine di una disciplina militare forte, aveva quello che fu poi un Politecnico di primissimo ordine. E queste sono un po' le tre colonne su cui si è basata la costruzione industriale di Torino e è diventata in Italia la capitale industriale. Chiaro. E anche per certi versi la capitale intellettuale, per esempio in quegli anni. O una delle grandi capitane... Non diciamo una delle grandi capitane, ma da un punto di vista industriale c'era Genova con l'Ansaldo e Torino con la Fiat. E i rapporti con Casa Savoia? Dominini. Casa Savoia, guardi, io mi trovo da bambino, il principe di Piemonte allora, poi re Umberto, abitava a Torino. Quindi c'erano i rapporti che c'era una società normale, una persona che prendeva parte ogni tanto alla vita cittadina. Il re non l'ho mai visto, il re Vittorio Manuel III non l'ho mai visto. Il principe di Piemonte lo vidi molto e lo andai a vedere anche il giorno che lasciò il criminale a Roma partendo per l'esilio. Cosa le disse? Non mi disse nulla. Era molto commovente. Commovente perché? Perché? Beh, diciamo, quando tu sei stato soldato, hai giurato a fedeltà a un bel altro sistema e lo vedi sparire evidentemente commovente. E questo è stato una cosa che, insomma, l'ha marcata e l'ha fatta... Beh, diciamo, fa parte della storia un appeso alto. Evidentemente aveva avuto la fortuna di avere immediatamente un Presidente della Repubblica come Inaudi, che era un piemontese molto più simile a un monarca, a un Presidente di carattere... Ne aveva la statura di Vittorio Manuel III. Dicono gli storici che lei è andato militare sul fronte russo prima e poi in Tunisia e che suo nonno non era felice di vederla partire. No, è vero fino a un certo punto. Io sono stato il primo inverno del corpo di spedizione in Russia, ma non in linea di combattimento. E poi sono rientrato nella primavera. Mio nonno riteneva che con questo avessi fatto abbastanza. Voleva acquisirmi a lavorare vicino a lui. Perché aveva bisogno di un esempio. Aveva piacere che tornassi. Io invece, finché continuavo la guerra, preferivo partecipare. Perché? Perché quando il tuo paese è in guerra e tu sei un uomo giovane, sei fra quelli che fanno la guerra e non fra quelli che sanno a guardare. Allora riuscì a entrare nel mio gruppo corazzato, che andò in Libia, che andò in Libia prima e poi in Tunisia e partecipare a quella campagna lì. Non voglio dire con enorme piacere, ma con soddisfazione. A 19 anni, nel settembre del 40, si arruola volontario. La guerra era appena cominciata. Sarà allievo ufficiale. Parte per il fronte russo nel novembre del 1941. Questo filmato, che proviene dall'archivio Fiat, per qualche ragione non ha sonoro. Ci sono invece, come all'epoca del muto, i sottotitoli. A 19 anni, nel settembre del 31. A 19 anni, nel settembre del 40, si arruola volontario. A 19 anni, nel settembre del 40, si arruola volontario. A 19 anni, nel settembre del 40, si al giro. La guerra era appena cominciata, ma conciata. lei in Tunisia è stato decorato ci può raccontare come andava e guardi io ho fatto il soldato per cinque anni in questi cinque anni il successo di tutti i colori sono stato anche il comandante di plotone di autoblindo in africa in Tunisia cosa faceva con questa naturalmente gli facevano esplorazione contatto con il nemico e combattimenti per chi contro e quando lei mi dice come mai è stato decorato era in uno di questi combattimenti ma è una cosa che mi va trista anche ricordare perché è stato ammazzato il secondo pilota che fu ferito in questi combattimenti per noi in seguito alla ferita quindi le dico in realtà che i ricordi di guerra li trovo tristi ecco problemi guerra giusta guerra ingiusta allora a quell'età non ce n'erano non esiste però il tuo paese va in guerra e c'è 18 20 anni fa il soldato quindi poi dopo dire dopo questo torna lei tornerà in italia e dopo l'armistizio lascerà torino se naturalmente dopo tutto quegli disordini che c'era in italia era spaventoso allora e io cercare di raggiungere gli alleati a sud e quella parte italiana e il governo del sud ebbe un grave incidente finì un operale a firenze però riuscì ancora a fare gli ultimi mesi sulla linea gotica nell'ultimo periodo di campagna italiana con la quinta guarda americana la divisione legnano la divisione legnano esattamente che cosa ricorda di quel periodo le tragedie le emozioni le esperienze che si fanno in guerra che sono credo sempre le stesse di tutti gli uomini dappertutto un buon ricordo cattivo ricordo un buon ricordo fino a che non ho visto quest'ultimo film il private ryan allora veramente non riesco a capire come ho potuto avere un buon ricordo cioè allora nel combattimento l'orrore della cosa diciamo nel cameratismo di questo tipo di vita sono molte cose positive quindi è entrato a torino con le truppe italiane con le prime truppe italiane che sono prime no perché sapete come la vita militare finimmo a bergamo a guerra praticamente finita non mi dovessi fermare un po poi vengi a torino dove trovai mio nonno dall'età tutti in condizioni di difficoltà praticamente con un nuovo regime con i partigiani com'era torino quando io arrivo a torino vengono dall'autostrada andando verso porta palazzo era tutta rossa c'erano solo bandiere rosse bandiere rosse che effetto le fegge vorrei dire che era di una certa allegria e di una certa preoccupazione il suo nonno in questa situazione il proprio uomo era già vecchio stanco battuto gli avevano abbattuto le fabbriche sono state bombardate da tutte le parti è stata bombardata anche questa casa anche villa peova la fabbrica di cuscinetto a sfede è un uomo molto stanco e molto abbattuto